Come verniciare un pavimento. Livello di difficoltà, un martello. Possiamo rinnovare il parquet, un pavimento in cemento o le vecchie piastrelle con uno smalto per pavimenti. Una soluzione estetica che offre una vasta scelta di colori. Serviranno detersivo, uno straccio per pavimento, detergente concentrato neutro, fogli abrasivi a grana media e fine. Smalto per pavimenti, nastro per mascheratura, stucco a presa rapida, stracci e sgrassatore. Dobbiamo avere a portata di mano un aspiratore, uno spazzolone, una levigatrice orbitale, una levigatrice per angoli, uno scalpello, un cassoncino, un secchio, una spazzola in acciaio, un pennello tondo a punta, una spugna, una bacinella e un rullo. Dobbiamo prevedere l'uso di guanti e di un respiratore. Disincrostazione efficace. Se il parquet è nuovo o grezzo o non presenta trattamenti, aspiriamo a fondo fin nei più piccoli recessi. Se il legno non è ad alto contenuto di tannino, laviamolo con il detersivo. Se è trattato o troppo sporco o verniciato ma particolarmente usurato, levighiamolo fino al legno nudo. Se il parquet è verniciato ma in buono stato, è sufficiente levigarlo con un abrasivo grana 240 e rimuovere la polvere. Rimuoviamo o proteggiamo i battiscopa. Prima levigatura. Montiamo sulla levigatrice un foglio abrasivo medio con grana 80. Possiamo noleggiare una macchina professionale o utilizzare una levigatrice orbitale. Se il legno è verniciato e particolarmente rovinato, levighiamolo a macchina o con un abrasivo grana 60-120. Levighiamo nel senso della lunghezza lungo le fibre del legno. Procediamo per piccole superfici e cambiamo l'abrasivo quando usurato. Lungo il battiscopa e negli angoli, utilizziamo una levigatrice per angoli. Aspiriamo per rimuovere la polvere. Seconda levigatura. Ripetiamo l'operazione con un abrasivo a grana fine da 100 a 120 e rimuoviamo la polvere. Riempiamo con lo stucco per legno le fughe troppo ampie, eventuali crepe o difetti. Lasciamo indurire prima di levigare e aspirare. Un supporto pulito e sicuro. Per ricevere lo smalto, un pavimento in cemento deve essere perfettamente poroso, pulito e asciutto. Eliminiamo con uno sgrassatore eventuali macchie di grasso. Completiamo la preparazione del pavimento con il detergente neutro. Pulisce, sgrassa, neutralizza i cementi nuovi e rende più porose le finiture troppo lisce. Sciacquiamo abbondantemente con acqua per neutralizzare l'azione dei prodotti. Test di porosità. Versiamo una goccia d'acqua sul pavimento e osserviamo. Se viene assorbita in meno di un minuto, il supporto è molto poroso. Se viene assorbita in 5 minuti, il supporto è normalmente poroso. Se rimane uno strato d'acqua anche dopo 5 minuti, il supporto è liscio. Correggiamo la porosità con un fondo protettivo per pavimenti, che migliora l'aderenza delle superfici poco assorbenti. In presenza di crepe. Lo smalto consente di dissimulare le piccole crepe, mentre quelle più evidenti vanno riempite. Apriamo la crepa con la punta di uno scalpello, svuotiamola con la spazzola in acciaio e aspiriamo. Umidifichiamo con la spugna, quindi riempiamo con uno stucco epossidico a presa rapida. Se il massetto è recente, attendiamo 3 mesi prima di applicare lo smalto. Se il pavimento è farinoso, rendiamolo più compatto con un fondo protettivo per pavimenti. Applichiamo una finitura per evitare che in futuro le crepe si riaprano. Un supporto pulito. Prima di verniciare una vecchia superficie piastrellata, disincrostiamo a fondo con il detergente neutro. Grattiamo le parti rovinate delle fughe e ripariamole. Prima mano. Rimuoviamo i battiscopa oppure proteggiamoli con del nastro per mascheratura. Mescoliamo lo smalto. Cominciamo a stenderlo sul perimetro della stanza con un pennello tondo a punta. Proseguiamo con il rullo, dal fondo della stanza verso l'uscita. Incrociamo le passate con l'ultima nel senso delle doghe. Mano successiva. Lasciamo asciugare per il tempo indicato. Poi levighiamo con un foglio abrasivo a grana fine 180 per far emergere le fibre del legno e facilitare la presa della mano successiva. Aspiriamo con cura. Rimuoviamo la polvere con uno straccio umido e stendiamo la seconda mano. Rimuoviamo il nastro per mascheratura prima dell'asciugatura completa per evitare di rovinare lo smalto indurito. Prima mano. Proteggiamo la parte bassa dei muri con il nastro per mascheratura e mescoliamo lo smalto. Per evitare segni di ripresa, lavoriamo zona per zona partendo dal fondo della stanza. Cominciamo lungo le pareti con un pennello tondo a punta, quindi proseguiamo con il rullo incrociando le passate. Stendiamo bene lo smalto sempre nello stesso senso. Lavoriamo avanzando zona dopo zona fino alla porta d'uscita. Seconda mano. Lasciamo asciugare qualche ora in base alle indicazioni del produttore. Applichiamo la seconda mano con lo stesso principio. Mentre applichiamo la seconda mano, rimuoviamo il nastro adesivo man mano che indietreggiamo nella stanza. Attendiamo 24 ore prima di calpestare il suolo e da 4 a 5 giorni prima di utilizzare normalmente la stanza. Lo smalto. Mescoliamo bene lo smalto. Continuiamo con il rullo incrociando le passate. Lasciamo asciugare almeno 24 ore e stendiamo la seconda mano. Rimuoviamo il nastro per mascheratura prima dell'asciugatura completa per evitare di rovinare lo smalto indurito. Una soluzione pratica e alla portata di tutti, ideale per rinnovare il nostro pavimento con una minima spesa.